Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con l'inizio di una nuova collezione, un'altra che attendevate da tantissimo, la Marvel Movie Fusion. Ebbene eccoci qui come sempre di questa uscita, io ve ne avevo già parlato sui miei social, mi raccomando vi lascio qui sotto. Andate a lasciare un bel pollicione se volete essere sempre aggiornati non solo su tutto quello che esce sul canale, ma soprattutto su quello che esce in edicola. È importante ragazzi essere avvisati tempestivamente perché altrimenti questi primi numeri ve li perdete. Allora, altra collezione decisamente importante, altra collezione che mi chiedete da tantissimo quando esce in edicola, eccola qua e oggi la scopriamo insieme. Ma come sempre, prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollicione all'insù, mi raccomando iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist della Marvel Movie Museum, dove troverete tutti i numeri successivi, ma dove trovate anche quelli che abbiamo già fatto con De Agostini perché me ne avevo inviati. Inoltre qui sotto vi ricordo del mio gruppo Telegram VisioTV, importante perché con una piccola notifica vi avviso sempre quando esce un nuovo video sul canale. Allora, oggi iniziamo con il casco di Iron Man, sicuramente uno degli usciti più importanti, guardate quante ce ne sono. Adesso ci spostiamo sotto, diamo uno sguardo all'opera, ovviamente andiamo a vedere anche le informazioni su quanti numeri sono, i costi, insomma tutte le cose che più vi interessano e poi scopriamo l'elmo. Diamoci dentro e spostiamoci sotto. Perfetto ragazzi, eccoci qui, Marvel Movie Museum, i caschi e le armi più celebri del Marvel Cinematic Universe. Speciale prima uscita, il casco Mark 85 di Iron Man più di Magazine a soli 2,99€. Allora, andiamo a togliere la nostra, ovviamente si apre come è successo per i rally l'altro giorno, si è aperto, poco male. Togliamo anche il libricino e tutte quante le informazioni che fra poco ci leggiamo insieme e andiamo a leggere il cartonato nella parte posteriore. Allora, Marvel Movie Museum, una collezione imperdibile di oggetti unici, collezione i caschi, le armi e i manufatti più famosi dell'universo Marvel e sfoglie i magazine per scoprire la storia dei supereroi e i supercattivi più carismatici di tutti i tempi. Modelli in ABS, grande realismo in ogni dettaglio e con basi personalizzate. Io ragazzi ho avuto già un modo di scoprire lo scudo di Cap, l'elmo di Spider-Man, ho visto anche l'elmo di Black Panther, il martello di Thor. Ragazzi, sono dei modelli veramente spettacolari, fatti proprio bene, la tega è bella, la base è molto elegante, quindi è una collezione che secondo me vale. Peraltro sono anche grandissimi, cosa che sinceramente non mi aspettavo, io inizialmente credevo fossero più piccoli. La seconda uscita costerà 7,99€ e sarà appunto lo scudo di Cap. Allora, andiamo a leggere, la collezione si compone di 80 numeri, il prezzo della prima 2,99€, poi il prezzo della seconda 7,99€, le successive 15,99€, quindi ci stabilizzeremo sui 16€. Ma come vi stavo dicendo, secondo me la collezione vi vale, perché sono veramente dei numeri bellissimi. Allora, togliamo il cartonato e andiamoci a scoprire questo primo numero. Purtroppo si è leggermente aperto, stiamo attenti, eccolo qua. Allora, questo è l'ermo di Iron Man, con il logo Avengers Endgame, Iron Man Mark 85, helmet. Ragazzi, e che vi devo dire? È fatto veramente bene, è grande, è pesante e la colorazione, io lascio a voi le immagini, credo che non ci sia dubbio, no? È colorato benissimo, è lucido, guardate come riflette la luce e anche la plastica che è stata utilizzata all'interno degli occhi è molto bella, anzi, sembra quasi una plastica che si potrebbe accendere, se si accendeva era proprio, voto 100. Purtroppo non si accende, però come potete vedere, ragazzi, il lavoro che è stato fatto è veramente molto buono. Quindi verniciatura è ottima, scultura ottima per un pezzo che, vi devo dire, è veramente interessante. Poi questo primo numero, così poco, secondo me vale sempre sempre la pena. Sulla parte posteriore della base abbiamo anche la scritta Marvel Studios. Io che vi devo dire? Penso che la figure parla da sola, c'è poco da dire. Bellissima, se siete amanti di questo mondo, se siete amanti dei supereroi, secondo me ci sta al 100%. Come vi stavo dicendo, un'altra cosa veramente molto bella è la tega, che come potete vedere è ben fatta, peraltro vi posso garantire che si impilano. Io ho già avuto modo di provare, come vi dicevo, nei video scorsi, quindi quelle grandi uguali si possono impilare l'una con l'altra, ottimo per guadagnare spazio e ottimo, assolutamente, per garantire una pulizia a tutti i manufatti. L'unica cosa che faccio sempre un po' difficoltà a riagganciare le plastiche, eccola qua. Ragazzi, elmo di Iron Man, sono contento, bellissimo pezzo, ve lo consiglio, assolutamente sì. Poi ditemi voi che cosa ne pensate, io credo che ci sia veramente ben poco da dire, il pezzo è super. Prima di chiudere però, cosa importante, ci tenevo a farvi vedere la guida all'opera, che comprende anche un bellissimo poster di Iron Man, che voglio farvi vedere. Qui abbiamo anche le informazioni sull'abbonamento, avrete diritto al martello di Thor, questo che è stupendo, il cuore di Iron Man, con la scritta La Prova, che Tony Stark ha un cuore, t-shirt, poster e tazza. Quindi sicuramente interessante queste cose, guardate che spettacolo che è questo poster. Ovviamente con Iron Man che vola, devo dirvi tanta roba. Poi abbiamo anche il primo fascicolo, Iron Man Mark 85 numero 1, interessante anche in questo caso, perché ci dà tante informazioni sul personaggio, sia a livello cinematografico, ma anche a livello fumettistico. Cosa molto interessante, perché magari tanti di voi si sono approcciati alla Marvel soltanto con i film, questo è un ottimo modo per scoprire anche i fumetti, le differenze che ci sono tra i personaggi dei fumetti e quelli dei film, che fondamentalmente sono anche abbastanza evidenti a tratti. Ragazzi, questo è il primo numero super secondo me, mi raccomando, non ve lo fate scappare. E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. E se questo vi è piaciuto lasciate un like con il guanto di Iron Man. Fatemi sapere se vi è piaciuta questa collezione, se l'avete presa, se l'avete trovata e se avete intenzione di continuarla. Tutto quello che volete, sempre con un bel commentino qui sotto. Io vi do appuntamento con il prossimo numero che sicuramente vedremo insieme, restate sempre super sintonizzati. Qui da Visio e dalla Marvel Movie Museum è davvero tutto, io vi mando un grosso saluto, ciao ciao!